E mo basta, you are extending yourself, te stavo a allargà, which god taxi driver, che Dio d'assista! Siete pronti voi due? Venite con me. Prontissima signora, a menaglie pure. Prego ragazzi, accomodatevi, c'è posta per voi. Nome? Ninetto Crusca. Età? Non si chiede l'età alla signora. Luogo di nascita? Via per documento dentro al giubbino, io non ci riesco, sono troppo gonfio. Stato civile? Italia, Svezia, sono morto civili. Stato civile nel senso celibe, nubile. Ah, presbite! Ah no no, io digerisco tutto. Titolo di studio? Licenza di pesca, laurea in comunicazioni di massa, a da senti come strillo! Quando vi siete messi insieme, come vi siete dichiarati? Dice fattisce, dice fattisce, allora io io faccio di come fattisce, dice io? E quando? Però a me piaci, c'è solo per se tu me piaci. Sono la donna del coatto, dove il macchio me c'è fratto, e il coatto dell'uomo mio mi lo toccava schifio. Quando quando ti incontro vede a tutti l'altri, io va a vedere, io va a vedere che ti spatta col coat e la coatta. Basta, grazie, basta. Un difetto di prosca? So una che dice pane al pane e vino al vino. E' una tipa strana, parla col pane e col vino. Un difetto di ninetto? E niente, lui va a un palestra. Infatti lo chiamano anche air panca, perché va lì e si gonfia. E' talmente gonfio, che quando fa botta non ci arriva. E poi c'è la macchina coatta, c'è una Mercedes turbodiesel station wagon TDS. Che significa? Te dico scansiti, io non c'ho difetti. Oddio, oddio, forse mi piace la musica a palla, la musica a palla, talmente a palla che mi si svernigia la macchina. Ma non le fanno male le orecchie? E chi ce sente più dalle orecchie? Sta musica si sente col cuore, ignorante. Parolaccia preferita? Ma vaffanculo, animo il c***o, fia da una m***a, fia da una m***a, fia da una m***a di tu sorella, quattro c***o di tu parla, ha rotto il c***o, fia da una m***a, fia da un zinco e te faccio un c***o così, a testa del c***o, fia da una m***a, ma chi non il c***o hai tu? E questo si m'è sta simpatica. Io non ho fanno, io meno. Io vengo là, io te pio quel visetto a quel sapone e me ce l'avo le mani. Io te strappo le orecchie, un po' per cattivare e te frillo. Hai mai fumato uno spinello? Mai, solo carne. Uno spinello, minimo due. Una qualità di impusca? E modesta, non faccio pesare agli altri la mia bellezza. Una qualità di ninetto? E' bello, e' bravo, e' intelligente e c'ha un... Sì, vabbè, c***o, abbiamo capito. Dunque, io c'ho talento per la musica, gonfio tutti come un alzampone. Posizione preferita nel fare la morte? E' una cosa privata, e fai diventare rossa. Però c'è presente quando io mi metto... Sì, vabbè, basta. Grazie. Io de sotto, e crusca de fuori a fare la spesa. Una cosa che non sopporti. E' il perizoma del leopardo. Suo energico al peco. Io non sopporto quando in palestra si vienono alambolizzati. E fosse uno che offre. Il posto più strano dove ti è capitato di farlo? E' una cosa privata. e fa diventare rossa. C'è presente piazza del popolo sotto all'operisco quando fa sempre... Basta. Grazie. Sto disto disto disto. No. In campagna. Oh, mi scappava. Mi fai un urlo. No! Hai capito che è arrivato il successo? Quando? Da quando alla palestra dove vado io gli hanno cambiato l'insegna. Da gym ci hanno scritto dice fa dice io faccio dico dico me fa dice dice e poi sotto ci hanno scritto ecco 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 allora volevo salutare naturalmente Tatiana e chi è? Come chi è Tatiana? No se te coso chi è Tatiana? Amica mia quella grassa talmente grassa che la febbre gli esale che l'ascensore penso è talmente grassa che dorme un letto a due piazze piazza San Pietro e piazza San Marco poi volevo salutare tutto il mio pubblico se mai ci sarà e invece a te ma baffa c***o grazie eh aspettate pure qua vi faremo sapere in giornata grazie eh signora grazie eh che dice? ne posso sete qua? certo grazie eh sarà gentilissima grazie veramente guarda veramente grazie ma grazie veramente veramente simpatica eh eh certo come il celotto da una ceretta ah 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 tuo agru fattela masticata va grazie Linè bella quanto sei bella bella e brava tu sei la ciccia mia tu sei la ciccia mia te farebbe come è andato il profilo? è andata benissimo io ho spaccato la telecammara a te invece come è andata? come deve essere andata a gru? io sono number one io sono number one io sono number one chi so io? number one number one ma quando ci mettono mi sta scadendo la patente? complimenti siete stati presi davvero? siete proprio i due che ci servivano ragazzi ragazzi mi raccomando che sia tutto pulito certo Linè non era proprio quello che io mi aspettavo eh agru te devi fidare di me agru un po' di cavetta tocca falla l'importante è che stiamo qua dentro no? dentro sta struttura dentro i studi oddio studi fidate tempo due anni e stiamo a far trenina buona domenica ragazzi io sono number one te devi fidare io sono number one io sono number one chi so io? un coglione ma number one